A dimostrare che Claudio diceva a scena di Meno 26 Giacamente Claudio, sotto, e poi sta a 157 Avrei voler a 4.000 e 3.000 a vuoto Per prendere la campana di Meno 26 Giacomo, 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 Giacomo Ho messo la copre, si, la regalo E io ho detto no, poi ho messo la medaglia Siamo al momento 29, passaggio 18 Armonita la numero 3 Avviva! Vieni a me! Vai Giulia! Vai Giulia! Vieni a me! 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 Non voglio dire l'eliminazione, no eliminazione, no eliminazione, sono tanti tre che si fermano, quindi salta l'eliminazione di meno 25, tiro a volto, però c'è il traguardo, attenzione perché al passaggio di meno 21 ci sarà un traguardo, saltano le eliminazioni, saltano le eliminazioni, momento di pausa, due atlete si sono fermate, quindi si saltano le eliminazioni, siamo a meno 23, meno 23, prossimo, no la campana non la suoniamo per i punti, prossimo giro, traguardo punti, passi di giro, traguardo punti, sul giorno, in prima posizione ad acquisire punti, la campana di meno 20, prossima eliminazione, c'è l'atleta tardata, quindi il gruppo può respirare, no, quello non importa, basta che li prendono loro, non ci servono, ok? Vai Giulio! Vai Giulio! Eliminazione corso, abbiamo un atleta leggermente attardata, si tratta di Alice Dolci, numero 175 eliminata, adesso siamo a 18, giro libero, giro riposo, e il prossimo giro a 17, campana per l'eliminazione, eliminazione, il prossimo giro, eliminazione, il prossimo giro, eliminazione, il prossimo giro, prossimo giro, il prossimo giro, il prossimo giro, il prossimo giro, il prossimo giro, 4, 7, 9 eliminata, ora è un traguardo punti, con Sorcionova ancora il suo mando, vediamo i due bussci, siamo a meno 14, sentiremo di nuovo la campana, campana, campana per l'eliminazione, il prossimo giro, il prossimo giro, eliminazione, il prossimo giro, eliminazione, il prossimo giro, passaggio, 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 Prossimo giro eliminazione Prossimo giro traguardo Prossimo giro traguardo Si è eliminata la numero Vecinato 43 Attenzione canone in curva Un'altra Gara neutralizzata Gara neutralizzata Neutralizzata Siamo ai 29 Gara neutralizzata Attenzione Controlliamole Ok rimango Questa posizione Gara neutralizzata Ok Allora Qui Quindi Eh scusate Potremmo mettere 10 In modo che almeno 9 Questa resta a guardo Che non hanno fatto Vediamo almeno 10 gara neutralizzata la gara può riprendere il prossimo giro ah scusate no mi dicono ancora allora c'è vediamo come pista libera giro traguardo prossimo giro punti del traguardo traguardo di meno 9 ancora Sorciolovo Romagnoli 364 fermarsi 364 stop campana di meno 8 prossimo giro eliminazione prossimo giro eliminazione 320 320 fermarsi 320 fermarsi soffia 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 fermarsi fermarsi passaggio a vuoto in questo momento siamo ai meno 6 prossimo giro campana sono saltate le eliminazioni per via dei ripiri quindi almeno 3 almeno 3 un traguardo siamo a meno 5 meno 5 saltano tutte le eliminazioni siamo siamo adesso a a meno 4 e a meno 3 ci sarà l'ultimo traguardo a disposizione Romagnoli Sorcionovo le due battistrada prossimo giro traguardo prossimo giro traguardo Sorcionovo siamo ai meno 2 al passaggio meno 2 meno 2 tira Sorcionovo Lugia Alice Sorcionovo Alice Sorcionovo Romagnoli in seconda con il 4 4 5 ultimo giro ultimo giro seconda posizione ora per l'atleta di Praga ecco lei arrivo 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 applausi per Alice Sorcionovo Alice Sorcionovo secondo porto con ferma l'atleta di Praga esulta esulta anche l'atleta numero 3 infatti più meno